Un piano da 7,3 miliardi di euro per conquistare nuovi obiettivi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. La Giunta regionale ha adottato una pianificazione che prevede una spinta verso l'idrogeno, una riduzione delle importazioni energetiche e dei consumi di pari passo con una diminuzione delle emissioni di CO2 per quasi 15 milioni di tonnellate, pari a circa 148 milioni di nuovi alberi piantati e riduzione di CO2 nei settori trasporti, civile, agricoltura, rifiuti e piccola industria pari a 3 milioni e mezzo di tonnellate equivalenti a un bosco esteso quanto la provincia di Belluno. Intanto è molto ambizioso, è il piano di una regione che si dà l'obiettivo di avere il 43% di energia da fonti rinnovabili al 2030, è un piano che prevede 7 miliardi di investimenti, è un piano che avrà un impatto per quasi 20 miliardi di euro, sono 19 miliardi e 7, 109 mila addetti, è un piano che guarda con attenzione alle fonti rinnovabili e non ultima ovviamente a quella dell'idrogeno verde. Non abbiamo vento e quindi l'eolico non è assolutamente sfruttabile e dobbiamo andare evidentemente su idrogeno fotovoltaico, pompe di calore, biometano sostenibile, quindi impianti di biometano, ecco questa è la nostra filosofia, tutto quello che ha mosso il piano però è una convinzione che non esiste una transizione ambientale ed energetica vera senza una sostenibilità economica e finanziaria, ecco questo va sottolineato assolutamente altrimenti diventa un manifesto ambientalista ma non è un piano energetico. C'è anche diciamo un intervento previsto per sostenere ovviamente queste transizioni energetiche, fare in modo insomma che i tetti del Veneto si riempiano di pannelli fotovoltaici in maniera tale che pian piano si raggiungano autonomie energetiche. Intanto la giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin ha approvato anche un bando destinato a sostenere mediante contributi a fondo perduto per un valore di 7,2 milioni di euro le micro, piccole e medie imprese che decidano di promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficace sotto il profilo delle risorse.